Ascolti TV venerdì 23 marzo 2018, Argentina Italia al 24,5%, Sirano al 3,6%, Crozza al 4,7% I risultati dell'Auditel per i principali programmi andati in onda venerdì 23 marzo 2018 L'incontro amichevole Argentina Italia vince la serata. Non parte bene Sairano. L'amore fa miracoli su Rai 3 L'amichevole Argentina Italia vince la serata nonostante la delusione della sconfitta per due reti a zero che si somma all'amarezza dell'esclusione dai mondiali di Russia. Il risultato d'ascolto basta ad assicurare a Rai 1 il predominio del prime time. Parte male Sirano. L'amore fa miracoli che si ferma al 3,6%. Facendo presupporre un futuro calo, una volta sfumata la curiosità dell'esordio. Fratelli di Crozza non raggiunge la soglia del 5% mentre crescono gli ascolti di Nemo. Nessuno escluso che torna oltre il 6%. Ascolti TV venerdì 23 marzo 2018 Il prime time su Rai 1 L'incontro amichevole di calcio Argentina Italia ha fatto registrare 6.298.000 telespettatori con il 24,5% di share. Su Rai 2 Nemo Nessuno escluso ha aumentato il suo pubblico a 1.362.000 telespettatori con il 6,3% di share. Su Rai 3 Sirano l'amore fa miracoli si è fermato, con la prima puntata a 783.000 telespettatori con share del 3,6%. Su Rete 4 quarto grado ha catturato 1.582.000 telespettatori con l'8,6% di share. Su Canale 5 la ragazza del dipinto ha interessato 2.391.000 telespettatori pari all'11,1% di share. Su Italia 1 Ricci Ricci il più ricco del mondo ha raggiunto 1.552.000 telespettatori con il 6,6% di share. Sulla 7 Propaganda Live è stata la scelta di 852.000 telespettatori con share del 4,8%. Su TV 8 Il Cacciatore di X ha ottenuto 532.000 telespettatori con il 2,3% di share. Su 9 Fratelli di Crozza ha intrattenuto 1.142.000 telespettatori con share del 4,7%. Escolti TV Venerdì 23 Marzo 2018, access primetime. Su Rite 3 Subito dopo un posto al sole ha appassionato 1.819.000 fan della sopopera napoletana con il 6,9% di share. Su Rete 4 dalla vostra parte ha interessato 986.000 telespettatori con share del 3,8%. Su Canale 5 Striscia la notizia è stata seguita da 4.751.000 telespettatori con share del 18,1%. Su Italia 1 CSI Scena del Crimine ha raggiunto 1.058.000 telespettatori con il 4% di share. Sulla 7-8 e mezzo con Lily Gruber ha interessato 1.767.000 telespettatori con il 6,8% di share. Su TV 8 Guess My Age indovina l'età ha intrattenuto 497.000 telespettatori con l'1,9% di share. Sul 9 il Game Show Boom ha divertito 358.000 telespettatori con l'1,4% di share. Ascolti TV venerdì 23 marzo 2018, seconda serata speciale TG1 oltre il 10% su Rai 1 speciale TG1 ha fatto registrare 1.463.000 telespettatori con il 10,7% di share. Su Rai 2 TG punto di vista realizza un ascolto di 376.000 telespettatori con il 3,4% di share. Su Rai 3 teragrammi tre linea notte in forma 477.000 telespettatori con il 5,4% di share. Su Canale 5 Matrix ha realizzato un ascolto di 517.000 telespettatori con share del 7,1%. .